Associazioni ambientaliste di volontariato, professionisti e cittadini saranno i protagonisti del primo incontro del Tavolo Ambiente e Sociale che si svolgerà domani alle 18.30 sulla piattaforma Zoom. Dopo la presentazione dello scorso 17 aprile entra quindi nel vivo il progetto di efficientamento energetico del Comune di Fano. Responsabili dell'iniziativa sono i consiglieri comunali Coraffattori, Edoardo Carboni e Giovanni Clini. Sarà proprio quest'ultimo studente di ingegneria con delega attribuita dal sindaco ai cambiamenti climatici, salvaguardie ed educazione ambientale a presiedere il Tavolo. Durante l'incontro verranno spiegate quali sono le buone pratiche da mettere in atto su Fano per arrivare entro il 2050 a zero emissioni di gas a effetto serra, ad una crescita economica dissociata all'uso delle risorse e alla valorizzazione di persone e luoghi. Il Tavolo avrà il principale obiettivo di seguire il processo partecipativo che sta alla base di questo progetto di efficientamento energetico e per questo l'obiettivo sarà raggiunto coinvolgendo all'interno di questo Tavolo tutti quegli stakeholder, tutte quelle associazioni che nel corso degli anni si sono spesi per Fano e per le politiche ambientali. Il Tavolo sarà dunque il mezzo attraverso il quale per la prima volta associazioni cittadini potranno dare il loro contributo con spunti, idee, suggestioni e nuovi obiettivi. Per conoscere il progetto nella sua interezza da qualche mese attiva sul portale del Comune un'apposita sezione dove gli utenti possono anche interagire inserendo commenti. Il contributo sarà sia verso l'esterno che sia verso l'interno, infatti sarà occasione sia per ricepire le istanze, le esigenze, spunti, nuovi obiettivi che queste associazioni potranno darci sia per tenere aggiornati, perché comunque è un progetto pubblico e si tratta di edifici pubblici, di tenere aggiornati sugli stati dei lavori sul punto che si è arrivati di questo progetto.